è permesso si può posso mi presento si può forse una volta che ha visto bene e essere presente con una sola domanda eppure quello presentatore mai una volta che si presentasse buona posso entrare voi siete già entrato è vero che la signora Loretana stasera canterà Sanremo ma ma scusate chi me l'ha detto questa cosa mi è stato detto che la signora Loretana stasera canterà con Nino d'Angelo piccolo scoop ho anche pagato per questo al vostro figlio proprio al vostro figlio e io voglio una farà molta strada mio figlio ma questo è proprio il figlio in roccio e io sapevo quel mio figlio e penso nella gesto aereo e guitalia la signora Loretana porterà qualche personaggio importante scusate io non ci capito una cosa allora signora Loretana che giù da fa a Sanremo ma che ce ne fotte a noi basta che non torna è andata per i fiumi ma no è andata a pestare i piedi genovesi ma che ce ne fotte a noi perché aiuta aiuta basta che non torna più e qua siamo d'accordo ma insomma non avete ancora capito lei è andata lì per fare soldi e per portare qualche personaggio famoso qua grazie 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 grazie